Prima o poi diventeremo adulti Cari amici dell'avventura di Mike e Tony Siamo ritornati Ciao Antonio Ciao Michele bentornato Grazie per la maglietta dei Pokémon Guardate la maglietta dei Pokémon Grazie a Rosy per la maglietta di Dragon Ball Viva i Pokémon tosti e prorompenti Tutti indifferenti Go to catch mall Pokémon Challenge In cosa consiste? Senti, ti serve in cosa consiste? Vai Oggi faremo i versi dei Pokémon Ragazzi Siamo alla frutta Ma è anche d'accordo che riusciamo a metterci per le battute Siamo alla frutta C'è la banana? No, la banana piace a te, non piace a me Bene, iniziamo Allora, prima faremo ascoltare il verso originale Dopodiché Lui parte vantaggiato Prima della challenge ci vuole la sigla Salutiamo e ringraziamo tutti i nuovi follower Che negli ultimi 4 mesi ci hanno iniziato a seguire anche senza nuovi video Soprattutto quelli che in Germania Michele ha preso il cellulare e gli ha cliccato Iscriviti sul canale senza che loro sapessero nulla Iniziamo dal primo che qua ce lo da come Bulbasaur Invece si chiama Bulbasaur Vabbè, questi sono i nomi originali Babasaur No, hai iniziato No, hai iniziato Secondo, Charmander 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 Quertol Squirtol 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 Cassidy Non disiscrivetevi dal canale Forse di voi lo faremo Facciamo Butterfree Vai che è sempre il disegno Ma sono Cadal Scherzavo Facciamo un altro Facciamo Whittle 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 Facciamo PG8 Pizza 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 Piro Spiro 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 Pika Pikachu Chi è che non sa fare Pikachu Michele Pikachu 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 Onda Pika Pikachu Pika Pikachu State ancora guardando il video? Chi è? Il figlio della sabbia La talpa Nidoran Io sapevo che Nidoran facesse Nidoran 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 Clifari 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 Bravo Zigglypuff possiamo scegliere la Jigglypuff o la Jigglypuff song? Tu fai Jigglypuff e io faccio la Jigglypuff Vai Jigglypuff Jigglypuff Non c'è Jigglypuff Bravo Dicevamo Jigglypuff Abbiamo capito Andiamo avanti con Poliwag Metti silenzioso Metti silenzioso Puri Puri Ma io posso farlo pure Grolit Abra Posso farlo Grolit Abra 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 balsprout on a balsprout and turn it turn it turn me on balsprout ELECTROD L'ho fatto già prima, ELECTROD 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 DOD DOD TOD TOD COSAACCHE GENGAR Oh questo fa... GO GENGAR VAI GENGAR 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 No l'ho fatto meglio io e sto pensando a quelli di sotto che ci sentono POVERITY FACCIAMO IL POKEMON PREFERITO DI MICHELE Cubone COMBAM BAM COMBAM BAM COMBAM BAM COMBAM BAM 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 WIZZING E sarebbe l'evoluzione di Coffin Qua dobbiamo farlo in combo Uno, due, tre Mr. Mime Mr. Mime Lesson number one Mr. Mime Mr. Mime Facciamo l'inutile, il Pokémon inutile Chi è il Pokémon inutile? La papera No, è Magikarp, il pesce rosso Sì, ma finché Magikarp fa solo splash e non ha nessun effetto Magikarp 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 Snorlax Vai No Snorlax Snorlax Ciao Bjornax Perfetto Saluto Antonio Ciao Antonio Ultimo Pokémon Chiudiamo in bellezza con Tauros Tauros Inizia prima lì Sembra Muccos, no Tauros Il bagno dirà E amici E questo è stato il nostro ritorno Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like Se non vi è piaciuto fatevelo piacere lo stesso Perché se ti scaffo uno scaffo che ti scaffo in dallo scaffo alla canzone sotto tanti scaffi che ti scaffo in terra Se la vita mette, mettete Se non la vita mette, non lo mettete E noi vi salutiamo e ci vediamo in un prossimo video Ragazzi Turutututututututut!